Tra poco Peppa dovrebbe arrivare Masha per giocare un po' insieme a te, sei contenta? Che bello mamma, non vedo l'ora che arrivi Masha, ho voglia di fare tantissimi giochi insieme a lei. Lo so Peppa, sono contenta, ma mi raccomando ricordati di fare la brava e di non fare pasticci. Ok mamma. Ecco Peppa, questa dovrebbe essere Masha. Ciao Peppa, ciao mamma Pig, eccomi qui come promesso. Che bello Masha che sei qui, dai dai andiamo subito a giocare. Bene bambine, allora io vi saluto ed esco a fare le mie commissioni. E tu Masha che sei più grande, mi raccomando, controlla che Peppa faccia la brava e che non faccia pasticci. A tra poco. Che bello, siamo rimaste sole. Allora Masha, che gioco facciamo? Beh Peppa, io avrei un'idea. Che ne dici se ci prepariamo una super torta al cioccolato e poi ce la mangiamo. Wow, che bella idea Masha. Sì sì, iniziamo subito i preparativi per la torta. Eccomi Masha, io sono pronta. Ho anche la divisa da cuoca. Oh bene Peppa, allora iniziamo subito a mettere tutti gli ingredienti sul tavolo. Allora, ecco qua tutti i nostri ingredienti. Farina, acqua, lievito. Ora metteremo tutto insieme e prepareremo la nostra torta. Sì sì, che bello, che bello. Voglio fare io, voglio fare io. Ora prenderò la farina. Peppa, occhio con la farina perché potresti fare un gran pasticcio. Tranquilla Masha, ci penso io. Farina, sei mia. Ah ah, che bello giocare con la farina. Ora ci metto il mio bel musetto. E, e, ciù. Peppa, ma cosa stai facendo? Smetti di giocare con la farina. Ci serve per cucinare e per preparare la torta. Lo so, lo so Masha, ma è troppo divertente. Ora voglio farmi un bel tuffo dentro alla farina. Peppa, smettila subito. Ti sporcherai tutta. E stai facendo un gran pacciugo su tutto il pavimento. Oh cavoli, cosa dirà mamma Pig quando vedrà tutto questo pasticcio in cucina? Ah 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 ah, è troppo divertente, troppo divertente. Mi sto divertendo un sacco. Peppa, adesso basta. Facciamo così. Io continuo a fare la torta e tu vai in salotta a guardare la televisione. Almeno così non farai pasticci. Uffi, io che mi stavo divertendo così tanto. Vabbè. Uffa, che noia stare qui in salotto a guardare la tv. Devo farmi venire in mente qualche idea. Ho trovato, mi metterò a colorare. Ecco qua. Prendiamo il pennarello e vediamo un po' dove posso iniziare a disegnare. Hihi. Uh, guarda, questo spazietto vuoto sembra proprio fatto per me. Ora ci faccio un bel disegno. Ecco qui. Così. Coloriamo un po'. Su e giù. Su e giù. Così. Sta venendo proprio un bel disegno. Ecco qui. Sono proprio soddisfatta del mio bel disegno. Peppa, Peppa, vieni in cucina. La torta al cioccolato è pronta. Un attimo, Masha. Sto finendo di fare una cosa e arrivo. Andiamo a vedere un po' cosa sta facendo Peppa. Speriamo non abbia combinato altri pasticci. Povera me. Peppa, la torta è pronta. Cosa stai? Oh, mamma mia, Peppa. Ma cosa hai fatto? Hai scarabocchiato tutto il muro. Oh, povera me. E adesso cosa dirà mamma P che quando torna a casa? Sono rovinata. Hai visto, Masha, che bel disegno? Ora così il salotto sarà più bello. Ora, Peppa, mi toccherà pulire tutto prima che arrivi la tua mamma. Uffa! Dai, forza. Vieni di là a mangiare la torta che ho preparato. E poi sistemeremo tutto. Oh, Masha, che bella torta che hai fatto. Me la voglio mangiare tutta. Pancia mia, fatti capanna. Miam, 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 miam. Masha, è deliziosa. Quanto cioccolato che c'è in questa torta. Ora, Peppa, basta mangiare torta. Adesso devi andare subito a farti un bagno e pulirti tutta prima che arrivi la tua mamma. E io intanto cercherò di pulire questo disastro. Uffi! Ok, ora vado a farmi il bagnetto. E vai! Ecco qui la mia vasca piena di schiuma profumata. Ora mi faccio un bel bagnetto e mi pulisco tutta da questa farina appiccicosa. E splash! Wow, che bello! Si sta benissimo nell'acqua piena di bollicine. La la la, la la la, come è bello stare qua. Ah, ora mi immergo tutta nella schiuma. Quante bollicine! Che divertente! Ah, che fatica! E con questo ho finito di pulire anche la vasca. E ora speriamo solo che torni mamma Pig. Io sono veramente esausta. Ciao bambine! Sono tornata! Oh, ma com'è tutto pulito e ordinato qui in casa! E vedo che avete fatto anche una torta al cioccolato. Siete state proprio bravissime! Beh, visto che è andata così bene, se vuoi Masha puoi tornare anche domani. Ehm, beh, veramente domani credo proprio di avere già un impegno, eh? Anzi, ora scappo che sono davvero molto in ritardo. Ciao ciao! Ma, chissà cosa le avrà preso. Ciao! Grazie a tutti.